di consuenza di impresa, più che di semplice commercialista e povera impresa tradizionalmente, sono quegli attori che, insieme anche a Lanci, quindi da tutti i comuni a livello regionale, devono andare da Farno, per spingere il sistema delle imprese, il sistema del territorio, a sfruttare questa comunità. Quindi Unione Camere è del suo dovere di fare queste iniziative, quindi sono molto contenti di aver ospitato in questa sede e ipotizzare il nostro contributo. Noi lo stiamo facendo, stiamo cercando in tutte le maniere, proprio nel mondo europeo, della Commissione Europea, di spingere in questa direzione tre iniziative e sbagliate. Dopo questa iniziativa, nel 16-17, c'è una iniziativa di formazione più specifica, anche questa funzionale diretta, a come entrare direttamente nel sistema dei panni per rispondere i progetti e le iniziative che noi esporremo.